Cosa succede a Bitcoin che nella nottata di oggi in pratica ragazzi va a crashare alla velocità della luce facendo un candelone rosso in pratica mangiandosi 1000 dollari nel 4% circa, 4 e mezzo per cento. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi scusate sono fuori quindi sono in viaggio nuovamente quindi mi vedete senza face diciamo così. Allora vi faccio vedere intanto questo grafico che al time frame di 5 minuti vi spiega un concetto molto semplice cioè in 1, 2, 3, 4 candele in pratica Bitcoin va verso il minimo che ha toccato. Tra l'altro questo è il grafico di Bitcoin Index ma se andiamo a vedere per esempio quello di Bitcoin Bitfinex 1, 2, 3, 4 e si tocca praticamente il minimo poi ha fatto un po' un doppio minimo in questa zona. Cioè ragazzi questo è un crash palesemente manovrato cioè pilotato con un book che magari è un order book che era leggero, era scarso questa notte con mercati europei chiusi, mercati USA chiusi intorno alle 2 di notte orario italiano e si è mangiato in pratica tutto l'order book un ordine magari grosso e ha fatto diciamo crashare questo mercato. Interessante vedere sempre queste cose non è facile comprendere se effettivamente sono solo dei movimenti standard che poi vengono recuperati ma oppure ragazzi il mercato sa qualcosa che noi non sappiamo. Se volessimo fare un po' i cosiddetti complottisti potremmo anche dire in effetti proprio così cioè il mercato ha scaricato un po' di Bitcoin perché l'ha fatto quando i order book sono scarichi la notte insomma che è successo è scaricato da diciamo un sistema, un trade system o quant'altro. Insomma a livello di complottismo potremmo fare tante idee ma ci serve a poco perché quello che ci serve è ragionare sui grafici e come sempre andare a guardare la questione ciclica che cosa sta facendo Bitcoin eccetera. Questo ciclo mensile che andremo anche a ragionare un pochino questo qui ragazzi che stiamo vedendo su YouTube da un po' non è riuscito a superare il super livello di resistenza che ormai conosce praticamente tutto il pianeta 25.500 e 26.000 ed è ha iniziato diciamo una struttura leggermente di swing a ribasso come aveva fatto un po' di tempo fa nella mese di febbraio. Detto questo io il lancio di Bitcoin lo faccio lo stesso però voi non lo vedete vediamo ragazzi che cosa ci porta anche oggi e no ragazzi oggi per il sesto lancio di fila è andato in posizione down e mi dispiace sopra dirvela questa cosa però gli ultimi 5 lanci non hanno funzionato quindi speriamo non funzionare anche questo. Va bene scherzi a parte andiamo ad analizzare un po' di grafici e vedere quello che sta succedendo anche perché per la prima volta in maniera così consistente nelle ultime settimane c'è una totale differenza con Nasdaq che ha iniziato oggi una giornata positiva più 1,12 mentre Bitcoin è addirittura cresciato del 4,70%. Quindi questa situazione diciamo è molto diversa rispetto a quella solita. Oggi però analizziamo quelli che sono i grafici di lungo periodo perché abbiamo fatto i brevi nelle scorse settimane quindi andiamo a vedere da un punto di vista di candela per esempio mensile settimanale e poi analizziamo ovviamente quello che sta succedendo sul grafico del ciclo mensile e vediamo anche Nasdaq. Iniziamo dal grafico di natura mensile ragazzi il grafico più lento della storia ma anche il più pulito della storia nell'indicare quelli che sono i trend. La candela di febbraio di cui avevamo parlato lunedì difficilissima da interpretare perché è una in pratica candela join scusate ad oggi con una struttura evening quindi in pratica di fine di un trend. Difficilissima questa candela come vi dicevo perché è una candela che potrebbe contenere anche l'intero mese di marzo se dovesse esserci una cosiddetta candela di insight. Però ragazzi questa candela di febbraio lascia anche tutte le porte aperte perché in pratica il mercato è andato down, è andato su, ha testato il massimo, è ritornato poi all'open e ha chiuso identico. Quindi in pratica non ha fatto niente, solo volatilità bassa tra le altre cose per il mese e ci può stare ragazzi. Ora siamo in una candela che è iniziata da questa zona e ha tentato immediatamente di fare dei, dopo una mini shadow rialzista, ha tentato, sta tentando ora lasciato al ribasso. Ora concettualmente siamo ancorati, attaccati a questa media mobile ragazzi che vi facevo vedere la media mobile a un anno che è una media mobile importantissima sulla time frame mensile ragazzi perché il superamento di quella media mobile indica che teoricamente il mercato va verso l'inversione del ciclo a un anno e quindi in sostanza indicherebbe che l'inizio del nuovo ciclo annuale è iniziato poi a novembre. Perciò è un momento, il superamento di questo livello, un momento in cui Bitcoin deve chiaramente poi ragionare in termini diversi rispetto a quello che ha fatto con questa candela di rimbalzo, cioè da qui in poi se brecca e sale e ha invertito il trend e ha iniziato uno ciclo annuale. Quindi ovviamente si deve assumere le sue responsabilità da quel punto di vista, anche se come vi ho più volte citato probabilmente questa zona e infine quest'altra, se dovesse eventualmente succedere una fase rialzista, sarebbero comunque difficili da superare nell'anno 2023. Allora detto questo, al momento quindi ha preferito ragionare in termini di riflessione perché proprio nella giornata di ieri stava tentando, o ieri o l'altro ieri se non ricordo, stava tentando questa zona di app che come vedete poi porta al superamento di questa media mobile. Non ce l'ha fatta, ti riva giù. Non tutte le carte sono state giocate, è possibile anche ancora assistere a qualche giorno di ribasso perché da un punto di vista ciclico nel breve periodo siamo in una fase che si chiama chiusura di un ciclo che si chiama settimanale, quindi ancora è possibile assistere a qualche giorno di ribasso, poi il mercato dovrà nuovamente riflettere su se stesso. Abbiamo 27 giorni al mese di marzo, ancora 28 a dire la verità, di 31 al mese di marzo da andare a ragionare e quindi la possibilità comunque di riprendere fiato poi al rialzo c'è ancora. Spostiamoci su quello che invece è il grafico settimanale. Il grafico settimanale è bellissimo, è il mio grafico preferito ragazzi, molti lo sanno già perché è il grafico che secondo me comprime meglio quelle che sono le situazioni di volatilità e nello stesso tempo da segnali che possono essere anche utilizzati da un punto di vista operativo, ovviamente sempre per cicli medio-lunghi. Quindi da un punto di vista grafico è interessante andare a comprendere una cosa ragazzi, questo minimo di lunedì 13 febbraio reggerà o no? È un minimo su prezzi bit stamp 21.376. Adesso con la fase di ribasso di oggi si rischia nei prossimi giorni di andarlo a rompere. A quel punto ragazzi si potrebbe assistere anche a una fase di allungamento di questa struttura ciclica che vediamo in questo caso qui l'avevo settata intorno agli 84 poi si porterebbe a 105 perché sarebbe una struttura definita close di un ciclo trimestrale lungo. È un'ipotesi molto remota, non mi piace per niente, per una serie di motivi non vi tedio qui ragazzi però preferirei non vedere il breakout, vi dico la verità, dei minimi del mese di febbraio però questa possibilità dobbiamo valutarla. Le medie in questione sono a 26 settimane e a 12 settimane cioè rispettivamente la media a 6 mesi e a 3 mesi quindi sono quelle che possiamo definire medie di medio periodo, breve periodo dove il mercato in questo momento tenta la fase di rialzo c'è stata anche l'inversione nell'indicare appunto con queste medie che il tentativo di Bitcoin in questa fase è quella di invertire il trend di breve vabbè quello è invertito, è assodato ma il trend di medio che teoricamente viene invertito solo al superamento proprio dei 25.000 e qualcosa poi però il trend di lungo verrà investito al superamento dei massimi storici quindi non serve a niente ragionare da un punto di vista operativo così bensì bisogna ragionare su quello che indicano questi indicatori e prendere posizioni prima ovviamente di quei livelli allora al momento questa fase come vedete di ribasso anche di questa settimana che oggi siamo venerdì quindi volge al termine fra due giorni questa settimana si chiude domenica è all'interno di questa candela quindi tutto all'interno della candela di app del mese di febbraio che era avvenuto nel mese di febbraio più 11,51% all'interno di una singola settimana dopo due verdi e due rosse che vedete qui ora nulla vieta nel mercato di fare due rosse è una nuova verde che spunti poi in questa zona scusate sono ancora un po' raffreddatello quindi mi sentite con un calo di voce lo so molti di voi sorrideranno perché è una annata così per me ho la voce titubante diciamo in questo modo come bitcoin allora questa fase sostanzialmente ragazzi va confermata è una fase di respiro è molto delicata perché il breakout di alcuni livelli sarebbe molto difficile da gestire per bitcoin fermo restando che questo livello di supporto resta cioè lo spazio tra la media mobile che per questa settimana ve la faccio vedere quella a tre mesi è sui 20.800 e quell'altra che invece è quella semestrale 19.600 quindi potrebbe anche nella settimana magari questa o nell'altra raggiungere in effetti proprio questa zona di supporto perché ragazzi queste due medie l'insieme di queste due medie poi fungono vedete da livello di resistenza o di supporto come è stato qui per esempio o in altri momenti anche nelle fasi ribassiste guardate qui per esempio nell'ultimo trend quello famosissimo poi della bolla come sono state toccate raggiunte anche in pieno trend al rialzo quindi valutatele queste cose qui soprattutto se avete posizioni di breve periodo per quanto riguarda gli holder come vi confermavo nel precedente video le fasi di ribasso e dovrebbero magari il touch ecco di queste due medie dovrebbero sancire proprio l'ingresso in deep per l'holder che poi a quel punto dovrebbe mettere uno stop loss sui minimis di novembre e basta non fare più nulla come vi dicevo fino a tempi in memory insomma o anche più di un anno insomma ecco quindi l'holder diciamo da questa situazione potrebbe venire avvantaggiato per quanto riguarda invece le fasi sul time frame daily quindi quelle che riguardano più il breve è interessante perché da qui dal 13 di febbraio è iniziato un nuovo ciclo mensile è troppo corto siamo a 18 giorni può fare una metà a 18 giorni e poi fare 36 come gli altri quindi in pratica stare costruendo in pratica la sua metà per poi riprendere un'altra struttura e fare una cosa del genere sì questa cosa è possibile valutiamola ragazzi però da un punto di vista di cicli inferiori mi manca ancora un giorno che è domani ve lo dico in maniera molto chiara non si possono fare queste analisi su youtube troppo complesse poi diventano veramente un ternallotto quindi non avrebbe molto senso però io questa zona ancora la sto valutando ed è una struttura che è molto complessa perché il mercato essendosi infilato in una barra di congestione in pratica è entrato qui in barra di congestione si è fermato sulla resistenza dopodiché quindi da questa zona qui che è gennaio in sostanza si è bloccato in barra di congestione una volta che fa un mercato cammello a livello ciclico abbiamo pochi dati ragazzi perché i cicli si sfasano diventano complessi non si riesce a comprendere bene i livelli dei minimi sono rumorosi diventano volatili perciò li utilizziamo sempre però con un'ottica più critica da certi punti di vista perché vi sto dicendo che da qui si è infilato in una barra di congestione perché dalle due medie che vedete la 21 e la 11 classica sul time frame daily sta assistendo a un zig zag continuo il zig zag è classico di un mercato entrato in barra di congestione d'altronde poi lo sappiamo anche perché ne abbiamo detto più volte perché il superamento solo di questo livello di quest'area di pricing cambia il trend quindi in sostanza già dalle medie mobili sappiamo che qui è una barra di congestione per bitcoin e ci sta il problema è capire se questa barra di congestione sarà una barra di riaccumulazione quindi breakout e poi nuovi massimi oppure di distribuzione lì sarebbe difficile perché non avendo breakato il livello di 25.000 26.000 potrebbe addirittura ancora tentare nuovi minimi verso la fine di maggio-giugno è questo ragazzi con il famoso video che vi ho fatto vedere del complotto dei minimi di maggio lì andate anche a rivedervi magari questo video dei minimi di maggio che è interessantissimo diciamo su un canale YouTube allora detto questo vi faccio vedere anche Nasdaq che per la prima volta è totalmente contro il trend rispetto a bitcoin perché qui non parliamo solo di un'oscillazione un po' su e un po' giù ma qui abbiamo un Nasdaq che pompa e bitcoin che addirittura fa meno 4 cioè cosa stranissima quindi anche lì mi ha fatto un po' storcere il naso questa fase ragazzi perché ok ci può stare se bitcoin sta chiudendo un ciclo ve lo dico in maniera molto tecnica i cicli fanno queste cose quindi c'è un problema ciclico e che non abbiamo visto e quindi lo sta chiudendo adesso e poi riparte altrimenti il dubbio che con quelle fasi di bassiste in 20 minuti ci sia qualcosa qualcosa che sotto cenere che insomma ci fa preoccupare visto quello che abbiamo vissuto anche nel mese del nell'anno 2022 quindi magari non vorrei che ci sia qualche notizia che nessuno sa che sta per uscire fuori e insomma il mercato la sta già iniziando a scontare perché magari qualcuno sa lo so non sono complottista non mi piace però queste cose un po' il pensiero va allora da un punto di vista ciclico anche su Nasdaq però teoricamente questa fase di rialzista è troppo precoce perché in realtà ciclicamente dovremmo assistere a una zona di minimo come vi dicevo nella prima decade di marzo prima decade di marzo ci sta che l'abbia fatto il 2 marzo però è un po' troppo presto è un po' troppo presto perché beh insomma prima decade è proprio all'inizio diciamo è meglio che sia in questa zona quindi un po' mi puzza questa fase di rialzista vediamo ragazzi potrebbe non tenere cioè in pratica potrebbe fare queste giornate così e poi nuovamente un down magari con un doppio minimo attenzione però se fanno cose del genere perché lì Bitcoin mi inizia a preoccupare perché se perde forza rispetto a Nasdaq così tanto a quel punto mi inizia a preoccupare da un punto di vista operativo c'è poco da fare a dire la verità perché per i holder come ho già detto precedentemente le fasi di ribasso dovrebbero consentirvi di entrare poi semplicemente mettere uno stop sotto i minimi di novembre chiudere il computer e che si è visto si è visto da un punto di vista di trading di breve era tutto uscito la scorsa settimana e io personalmente non ho fatto nuovi ingressi da un punto di vista di posizionamento di medio periodo non c'è niente da fare perché siamo in una barra di congestione cioè in pratica ragazzi qui secondo me si ragiona o a trading di breve quindi sui cicli molto bassi il settimanale per esempio o c'è poco da fare questa è la situazione attenzione solo a fuoriuscite di bitcoin al di sotto di questo livello di price quindi 21.3 perché potrebbero essere delle fuoriuscite pericolosissime appunto in quanto bitcoin non ha superato i 25.000 e i 526.000 in maniera consistente e quindi la pericolosità che siamo ancora in un ciclo annuale iniziato a giugno ribassista a quel punto c'è resta tutta avete visto come il mercato non da pasti gratis come ha in pratica scombussolato le carte ed è anche questo ve lo dico proprio in maniera sincera il bello dei mercati delle criptovalute che lasciano appunto queste mollichine vi faccio vedere soltanto un livello di resistenza che a quel punto potrebbe essere utilizzato anche nel medio periodo ma vi ripeto è una barra questa quindi poi sempre evige il superamento dei 25.500 e 5 è questo livello qui i 24.000 che a questo punto è lo swing al ribasso di questo mini trend ribassista lo stesso vedete che aveva fatto qui in questa zona quindi un eventuale up con eventuale superamento di questa zona dà proprio il boost per il tentativo nuovo di touch dei massimi di questa di quest'anno 2023 detto questo ragazzi fatemi sapere come vi state comportando in questa fase e noi ci vediamo nel prossimo video intanto vi auguro buon weekend a tutti